Ciao, sono Lorenzo Pellegrini e questo è il mio Dream Team. Partiamo con il modulo, facciamo un 3-4-1-2 con il trequartista super offensivo, con 5-6 attaccanti. Allora partiamo, un porta buffon, non ha bisogno di descrizioni, è uno dei portieri più forti di sempre, quindi il numero uno per eccellenza, quindi in porta buffon perché abbiamo bisogno di recuperare bene per tutti gli attaccanti commesso, quindi abbiamo bisogno di un grande portiere. Poi allora partiamo con i tre di difesa che sono Maikon, Maldini e Javier Zanetti. Maikon è un giocatore incredibile, ho avuto anche modo di conoscere qui a Roma, di poter vedere in allenamento e quindi insomma su Maikon non si discute. Poi Maldini, perché ci serve un grande punto di riferimento in mezzo a quella difesa che possa guidare tutto il resto della squadra. E Javier Zanetti per le sue falcate fantastiche sulla fascia, quindi mi auguro che quella fascia possa raderla al suolo. Poi partiamo con il centrocampo, allora centrocampo a quattro, in mezzo, non può sicuramente mancare Daniele, il capitano di questo Dream Team che deve gestire tutta la squadra, pulire tutti i palloni, mandare in profondità, fare un po' tutto. Evvierà, che farà insomma quello che farà Daniele, quindi loro due e mezzo che cercheranno magari, mi auguro, di recuperare qualche pallone. Gli ultimi sono cinque attaccanti puri, anche se li ho messi sull'esterno, però qualcosa mi devo inventare. Allora, a destra Neymar e a sinistra Cristiano Ronaldo, quindi centrocampo a quattro con due campioni del dribbling per poter dribblare gli avversari e andare verso la porta, quindi meglio di questo un allenatore non può chiedere niente. Poi giochiamo con il 3-4-1-2, quindi con il trequartista che è Ronaldinho, quello che può fare quello che gli pare, anche solo per la serenità, per la solarità che ci mette quando gioca. Può andare in giro per tutto il campo e fare tutto quello che vuole. Davanti due fenomeni di imprevedibilità come Messi e Ronaldo, che da un momento all'altro possono farti vincere qualsiasi partita in qualsiasi momento. Questo è il mio Dream Team, speriamo di fare più gol di quanti ce ne facciano a noi e un saluto. Ciao! Ciao!